Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me C'è la cosa più importante da farti sapere Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere Trova senso solamente quando aiuto Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Cari fratelli e sorelle di Maria Visioni Siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti Nella chiesa delle esplorazioni di Assisi Vi rivolgiamo alla Beato Carlo Per intersezioni preso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere Vi ricordiamo che ogni dodici a ogni mese di queste intersezioni Vengono presentati alla Santa Missa nell'ora di soggio Santissima Trinità, Padre, Figlio e lo Spirito Santo Io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie Di cui avanti ha richieste l'anima del Beato Carlo Acuti Durante i suoi quindici anni trascorsi su questa terra E per i meriti di questo amato angelo della gioventù Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo La tristenza e lo sguardo rivolto verso se stessi La felicità e lo sguardo rivolto verso Dio Beato Carlo Acuti Che non hai mai distrutto l'esguardo da Gesù Il tuo grande amore Dammi la grazia di vivere già in questo mondo Questa vera felicità Ame Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti O Dio nostro Padre Grazie per averci dato Carlo modello di vita Per i giovani il mensaggio ai amore per tutti Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù Facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo Tu gli hai dato Maria come madre amantissima E ne hai fatto col rosario un cantore della sua intercessione Accogli la sua preghiera per noi Guarda soprattutto ai poveri che li ha amato Il soccorso anche a me Concedi per sua intercessione La grazia di cui ho bisogno E rendi piena la nostra gioia Potendo carlo tra i santi della tua santa chiesa Perché il suo soccorso Resplenda ancora per noi A gloria del tuo nome Ame Padre nostro che sei in cielo E sia santificato il tuo nome Venga il tuo reno E sia fatta la tua volontà Come in cielo così intera Daici oggi il nostro pane quotidiano E rimetti a noi i nostri debiti Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori E non abbandonaci alla tentazione Ma liberaci dal male Ame Ave Maria piena di grazie Il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne E benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio Prega per noi pecatori Adesso è nell'ora della nostra morte Ame Gloria al Padre Al Figlio E allo Spirito Santo Ame Agnes di Angona Per mio figlio Matteo Aruaj Per la salute mentale e emozionale Di grazie Alta Luisa Corsini da Roma Per la conversione di Roberto E sofferenza Alfredo Prega per Roberto Chi vada Alla gloria del paradiso Benedizioni la sua anima Adriana Ringrazio Carlo Per un miracolo Concesso nostro figlio autista Ora per la E sta bene Brigida Immaculata Per la conversione della Russia La fine della guerra Che la pace del Signore Regni in tutto il mondo Anche per la pace di Nord Corecci E Cina Chi sia Russia Consagrato dal cuore di Maria Andrea Bucci Ciao Carlo Voglio pregarti di liberarmi Alla ansia e della depressione Ame Carla di Undini Intercede per la conversione di mio figlio Cristiani Per uno Per mio figlio Per la depressione Anguccia Per un altro figlio Guarigioni di mio figlio Antonio Darlene 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 Mio figlio Io tappé per la salute Il lavoro Doren Per la mia famiglia Chi la mia famiglia Torni alla fede Eucaristia Francesco da Napoli Beato Carlo Mi affido a te Aiuta-mi in questo momento Desconforto Per la mia malattia Barbol Per la salute mentale Judy Per mio marito E la sua conversione Carina D'Ausa Per la conversione Di mio figlio Valentina E il marito Di Sebastiano Lucia De Morfetta Chiedo Umilmente Le tue preghiere Per il tuo Giovanni Conte Che Riscano Di allontarsi Dopo tanti anni Di amore Possa la tua Intercessione Farli Restare Uniti Più forti Che ma Sodo La processione Di Gesù Giuseppe E Maria Marcella Di Acicatena Affin Che mio figlio Giuseppe Superi Il concorso Che dovrà Iniziare A sostenere Marco Preghiere Per affidare L'umanità Intera Al Signore Marco Grazie Di tutto Quello Che fai Per noi Grazie Aiuta La nostra Famiglia A stare Bene Ad andare Ad accordo E a volersi Bene Aiuta Il mio genitore A stare Bene Aiuta Sebastiano A scuola Fa Che si Comporti Bene E si Impeni Di Prego Fa Che sia Promosso A giuno Di Prego Aiuta Benedetta A scuola A scuola E a stare Bene Aiuta Le persone Malata E a loro Famiglie Che soffrono Aiuta Emanuele Con Sofia Aiuta Gianni Noi Di Preghiamo Grazie Di Volio Bene Maria Valentich Di Carlo Aiuta Mi Maria Per la Salute Di Mio Del Mia Figlia Maria Per la Salute Di Cris Mauricio Ti Prego Carlo Fa Che Mio Figlio Federico Si Reassorba Quelle Tue Falti Di Sangue Che Ha Nelle Milenji E Non Deve Fare Nensuna Operazione Fa Che Lì Es Mata Di Sanguinare E Torni A Fare Che Mio Ti Prego Carlo Intercede Per Mio Filo Aiutaci In Queste Momento Così Di 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 Prego Norma Berterra Carlo Per Alan Per Aldo Sua Intercessione Rai Per Mio Figlio Per La Salute Saran Per Conversione Mio Figlio E Marito Queste Sono Carlo Le Intercessioni Di Tutte Le Persone Che Si Affidano A Te Alla Tua Intercessione Porta Davanti A Cristo Gesù E Alla Sua Madre Celeste Grazie Ciao Io sono Carlo Ma non voglio Parlarti di me C'è la cosa Più Importante Da farti Sapere Dio E A portata Di Mano E Te Lo Dimostro In Un Click Sono Solo Un Ragazzo Ma ho Già Chiaro Che Vivere Trova Senso Solamente Quando Aiuto